Piazza San Pietro ha già assunto in parte l'immagine natalizia, l'albero è pronto e mercoledì verranno accese le luci. Per il presepio invece bisognerà attendere ancora un po' di giorni, in questa domenica di avvento sono molti i bambini delle parrocchie romane che sono venuti con i bambinelli del presepio per la benedizione del Papa, appuntamento che è ormai tradizione, così Giovanni Paolo II coglie l'occasione per ricordare il valore di questo simbolo, piccolo o grande, semplice o elaborato, il presepe costituisce una familiare quanto mai espressiva rappresentazione del Natale. Ma soprattutto è un segno di fede in Dio che a Betelemme è venuto ad abitare in mezzo a noi. Non entra nella polemica in corso sulla opportunità o meno di allestire presepi nelle scuole il Papa Uttigua, ma sottolinea da una piazza affollata di bambini, anintonato Tuscini dalle stelle, Bianco Natale, sottolinea il Papa che il bambinello ci invita a vegliare e a pregare perché il mondo sappia accogliere la gioia del Natale. Tu scendi dalle stelle, cuore del cielo, e vieni in una grotta, pregare il cielo. Tu scendi dalle stelle, cuore del cielo, e vieni in una grotta. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.